Io sono Alessandro Pelligra, responsabile del progetto Imagine per il comune di Modena. Si è trattato di un progetto europeo esteso a otto città europee, tra cui Milton Keynes, Inghilterra, Lille, Francia, Dobrich, Bulgaria, poi abbiamo avuto Bistrizza, Romania, Monaco di Baviera, Germania e Modena Italia. Queste città supportate da una università di Hamburgo hanno sviluppato un modello da promuovere nella loro comunità per proporre alle città di immaginarsi al 2050, cioè immaginarsi in una società ad alta sostenibilità dove tutti i processi urbanistico, di vita sociale e culturale sono improntati al più alto livello di sostenibilità. E questo è una sfida ovviamente, è un sogno, un sogno al quale queste comunità si sono dovute ispirare per cercare di proporre come vorremmo vivere o come vivranno, meglio ancora dire, i nostri figli. A questo punto queste città hanno messo a sistema le loro migliori pratiche. Per Modena la pratica più interessante è stata lo sviluppo di progetti, sogni, innovazioni che i nostri bambini delle nostre scuole, i nostri ragazzi delle nostre scuole hanno proposto in un concorso di idee che poi è stato tutto trasferito in forma di disegni plastici, siti web e quant'altro al Comune di Modena che ha raccolto tutto questo materiale e che l'ha utilizzato e lo utilizzerà nei prossimi anni proprio come strumento di sollecitazione per quei tecnici, quei professionisti, quei operatori del settore che potranno sformare questi bellissimi sogni dei nostri bambini in progetti scientifici, tecnici e di ricerca. Questa è stata un po' la sfida di questo progetto, entusiasmante, è durato circa tre anni, adesso si conclude, ma l'esito è quello di raccogliere tutta questa documentazione perché poi costituisca materiale anche per i prossimi anni.